Nero Giardini, collezione donna, primavera-estate 2014, codice articolo P409840D, variante colore 400 cuoio, materiale Columbia, prezzo di vendita al pubblico 129,50 euro. Si tratta di un tronchetto con tomaia in pelle colore cuoio, gambale con traforatura e lavorazione al laser. Queste microincisioni sono effettuate con il laser, sia sul lato esterno che sul lato interno. Guardiamo da vicino la forma. La zip è sul tallone, quindi una zip posteriore. Internamente la tomaia è sfoderata, il sottopiede è in pelle nella parte posteriore, mentre troviamo il cuoio nella parte anteriore. L'altezza del gambale è 8,5 cm nella parte posteriore, il tacco è 9 cm circa. Troviamo inoltre un plateau alto 1,5 cm e la suola è in gomma personalizzata Nero Giardini.